Vediamo in questo video sette segni che le donne mature vogliono essere avvicinate. Come individuare i segni, i segnali e cosa fare dopo. Prima di affrontare il tema, metti un like e condividi questo video con i tuoi amici. Ovviamente iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale, su TikTok. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonato e vicino a tastino iscriviti. E inoltre sul canale puoi anche, diciamo, fare una donazione. Basta che vai sotto il video e clicchi sul link delle donazioni. Fai una piccola donazione e anche un caffè è ben accettata. E adesso veniamo al tema. Sette segni che le donne anziane vogliono essere avvicinate. Come individuare i segni e cosa fare dopo. Allora, le donne mature. Cioè, le donne mature sono le malgascione, le donne over 40. Come fai a sapere se le donne over 40 vogliono essere avvicinate, vogliono essere conquistate, vogliono essere sedotte? Quali sono i segni che deve individuare e cosa fare dopo? Allora, prima di tutto, diciamo che il primo segno è lo sguardo. Se è una donna, però ovviamente per sapere se una donna ti guarda, tu dovresti guardarla. È ovvio che se con la corda dell'occhio vedi che una donna ti guarda, diciamo così, magari mentre sei in un locale, eccetera, ma tu non la stai guardando, se non la conosci, potrebbe essere un segno, però non è ancora certo al 100%, potrebbe essere un segnale che anche gli fai cagare, lo fai vomitare, ti guardo, magari pensa di conoscerti, insomma. Comunque, se tu quindi vai alla ricerca del contatto visivo, stabilisci un contatto visivo e se noti che lei ti mantiene il contatto visivo, se tu fai un sorriso, lei ti contracambia il sorriso, poi distoglie lo sguardo, perché è ovvio che non è che sta lì un quarto d'ora a fissarti così, beh, questo è già un segnale, diciamo, sottile, ma importante che se tu l'avvicini, anche con una battuta qualunque, lei ci sta. A questo punto cosa devi fare se fa questo? Beh, visto che tu sei maschio, devi avvicinarti e fare una battuta. Puoi metterla in imbarazzo dicendo, ad esempio, una frase, ma ho visto che mi stavi guardando, ma ci conosciamo, forse ci siamo visti da qualche parte, mi sa, perché il tuo è uno sguardo, il tuo viso è un viso noto, non so dove ti ho mai vista. E lei ci fa, ma non lo so, ma ti ho vista magari su, che ne so, un ricalco, e non dire un sito porno, però magari, magari ti ho vista su Facebook, magari abbiamo un contatto a sé, ho visto su YouPorn. Se vuoi andare giù duro, non ho visto mica su YouPorn. No, ma guarda, è una battuta, scherzata. Ecco, questo potresti, potresti dire il tuo viso, è un viso noto, diciamo, non ho visto mica su YouPorn. Ah, dovrei vedere anche altre parti, no, no, ovviamente scherzavo, e magari ti ho visto su Facebook, l'ho visto da qualche parte, devi fare una risata. E questo è un modo, diciamo, per sessualizzare subito un po' la conversazione, prenderla un po' in giro e giocare, insomma, giocare in modo tale da andare a, diciamo, ottimizzare, massimizzare la possibilità che questa, in qualche modo, te la dia fondamentalmente, la disponibilità. E il gioco, se lei vedi che diventa rossa, vedi che gioco fa quando gli parli di YouPorn, ad esempio, potrebbe essere una cosa interessante. E, però, è importante che quando ti avvicini, diciamo, ti avvicini, questo è un segnale, ovviamente, e anche questo è un altro segnale molto importante, quando ti avvicini, magari a parlare con una donna, ad esempio, noti dei segnali di gradimento, ad esempio, che lei si portende un attimino verso di te, se tu vai indietro, lei viene in avanti. Quindi questo ti dà anche un altro segnale in più, ti dice anche che probabilmente come donna è attratta da te, ma è attratta anche da persone abbandoniche, da persone che le somministrano l'abbandono, fondamentalmente. Un'altra cosa è, diciamo, quando incroci una donna, ad esempio, e magari in una festa o in qualcosa, e te la noti sempre nella tua zona, insomma, Maria, tu ti sposti, vedi che lei viene lì, questo può essere in un locale, può essere in qualche zona, insomma, comunque, diciamo che in qualche modo, non dico che ti segue, però si manifesta. Allora lì devi, tac, utilizzare e subito devi dire, ciao, io mi chiamo Massimo, allunghi subito la mano. Lei, siccome questo è un gesto automatico, l'allungare la mano, cioè il dare la mano a chi ti allunga la mano, e quindi avviene il contatto fisico. Qualcuno è continuare dopo? Beh, intanto mantieni la stretta di mano, che non devi strittolargliela, ma devi fare comunque una stretta decisa, per un po' di più, per qualche secondo. Questo permetterà di stabilire un contatto fisico, tra l'altro è anche importante perché se lei accetta, diciamo, il contatto fisico, cioè quindi tenere la mano, farsi tenere la mano, molto di più potresti subito andare con una schedulata, dicendo, ah, guarda, tra l'altro, visto che ho la tua mano tra la mia mano, gliela giri e dici, guarda, io sono anche un esperto di lettura della mano. Ecco, questa è la linea della vita, gli racconti due balle, vatti a leggere qualche libercolo, diciamo, che parla di lettura della mano, di chi romanzia, e lì racconti due balle. E questo è un modo, diciamo, per la malgasciona, perché le malgascione, più il tempo passa, più diventano un po' bambine, no? Più sono attratte da queste cose, no? Oroscopi, lettura della mano. E allora, questo, diciamo, è un buon lavoro, è un buon lavoro. e ti suggerisco di portarla avanti, perché direi che funziona molto bene. E questo è importante anche perché tu puoi ottenere subito dei buoni risultati. Te lo suggerisco, conviene, e funziona, e funziona molto bene. Se un'altra cosa che tu ovviamente puoi fare è quando una donna, magari anche qua, ti guarda o sta vicino a te, un altro segnale che è interessata e che magari in un incrocio di sguardi potrebbe essere anche sull'autobus, per dire, noti che lei si fa un mordicchiamento delle labbra, si tocca le labbra, guardando in la tua direzione. Allora devi subito provare, e un altro tentativo d'approccio può essere quello di fare un complimento, no? Un complimento che potrebbe, diciamo, contenere anche una penalizzazione. Ah, bella questa camicetta, questa gonna, questa cosa, ne ha una uguale mia nonna, mia zia, insomma, qualcuno così. Ma si vede che vi servite dallo stesso negozio, probabilmente, e comunque necessariamente è un buon gusto. Ecco, questo è un complimento o non è un complimento? Ecco, perché questa cosa qua devi capire, diciamo, come può funzionare. No, le malgascione, donne un po', anziani, siccome hanno, più diventano vecchie, più vorrebbero essere viste come giovani, no? Tu puoi fare battute sull'età, no? Li chiedi, che lavoro fai? Metti che lei ti dice, ah, io vorrei cambiare lavoro, e tu dici, beh, sì, certo che a una certa età è difficile cambiare lavoro, no? E quindi, come dire, le dai già subito una stilettata. In realtà, non è che le stai dicendo sei vecchia, potrebbe essere anche perché magari sei troppo giovane, e quindi non vuoi cambiare lavoro. Ecco, quindi questo, in conclusione, diciamo, devi essere molto, come dire, devi avere anche umorismo, devi avere, sapere anche, diciamo, gestire al meglio il linguaggio non verbale, e questi sono tutti segnali che una donna è comunque attratta da te. E anche noti se è attratta da te, se durante, diciamo, una conversazione è un altro segnale, se vuole mantenere la conversazione, o se in una chat, ad esempio, un altro segnale, vuole mantenere la chat, porta avanti, se ti fa domande, un altro segnale che è interessato a te, che vorrebbe approfondire la conoscenza sulle tue possibili relazioni sentimentali, insomma, vuol sapere cazzi e mazzi, vuol sapere cose che ti possono interessare, cose che ti possono riguardare. Ecco, questi sono tutti segni, sono tutti segnali che indicano che, che insomma, che ce n'è, e quindi ti suggerisco di, come dire, proseguire in questo modo diventando subito un po' irreverente, no? Facendo subito una battuta ironica, magari facendola ridere, o facendola battute anche strane, paradossali, che la spiazzano fondamentalmente. Ah, che bel naso che ha, ecco, fai un complimento sul suo difetto. Se una c'ha un nasone, fai un complimento, ma guarda, mi è colpito molto, hai proprio un bel naso, mi piace molto, sembra un'antica divinità egizia, insomma, un'antica regina egizia, forse Nefertari, non lo so, e quindi andare a punzecchiare in questo modo sono tutte strategie molto utili per andare a battere, diciamo, il ferro finché cado. Provare per credere, ma soprattutto devi farlo con irriverenza, devi fotterne, fottertene, diciamo. Pensa che dentro ogni donna c'è una mignotta e aspetta l'uomo tirarla fuori. e comunque per questo video è tutto e ti ricordo di seguirmi su Instagram Massimo Tramasco ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube e inoltre ti ricordo di mettere un like, condividere questo video con i tuoi amici e insomma fare una donazione al canale se ti va e poi anche diciamo iscriverti, insomma, abbonarti al canale, sono tanti livelli di abbonamento. Seguimi su Instagram Massimo Tramasco ufficiale, seguimi su TikTok e abbonati, insomma, seguimi anche su tutti gli altri canali YouTube.